Benvenuti su MyFootballGersey. Io sono Stefano e oggi vi presento una delle maglie pre-match del Paris Saint-Hermain per la stagione 21 e 22 nella versione fan o stadium, quella cioè dedicata ai tifosi. Realizzata con un motivo geometrico nero e grigio, questa maglia dà la vestibilità regolare, è realizzata in tessuto poliestere liscio e leggero. Presenta un girocollo con orlo in colore nero, maniche corte e pannelli in rete per un taglio classico. Lo swoosh Nike sulle maniche è di colore Siren Red, sul petto è ricamato l'iconico stemma del Paris Saint-Germain. La tecnologia Dry Fit rimuove il sudore dalla pelle e ti aiuta a restare fresco, mentre la striscia mesh sulla manica offre extra ventilazione dove serve. La maglia è molto bella, nella mia classifica prende 4 stelle, devo dire che il Paris Saint-Germain veramente difficilmente sbaglia un colpo. Trovate tra l'altro quassù diverse recensioni del Paris Saint-Germain perché quest'anno ne ho viste tutte, credo di averne viste tutte quelle di questa stagione. Ora, se il video vi è piaciuto, vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per poter acquistare le maglie, che sono fatte veramente molto bene, ad un costo veramente imbattibile. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia media della versione fan, quella cioè dedicata ai tifosi.